Buongiorno a tutti, sono qui con il dottor Sergio Perri, psicoterapeuta. La domanda di oggi riguarda le vacanze degli adolescenti. Allora, una nostra lettrice ci chiede un consiglio. Suo figlio è stato bocciato in primo liceo. Bisogna mandarlo in vacanza, come vorrebbe suo marito, oppure costringerlo a stare con i genitori durante le vacanze o tenerlo a Milano cercando di punirlo in qualche modo perché per un anno non ha fatto assolutamente nulla. Qual è il consiglio dell'esperto? Mi veniva da ridere perché il consiglio fosse verificare tra moglie e marito che si parli un linguaggio unico perché di fronte alla bocciatura di un figlio la mamma la pensi in un modo e il marito in un modo radicalmente diverso. Ecco, lo vedo un segnale un pochino da indagare. Al di là della battuta, no, un segnale se non di punizione ma di riflessione va dato al ragazzo rispetto al fatto che se è rimasto bocciato qualche cosa di storto è andato a partire dal suo impegno. Quindi l'invito al ragazzo a riflettere su che cosa è andato storto rispetto alla possibilità che si sia potuto guadagnare un pezzettino della vita che gli viene chiesto di guadagnarsi, va segnalato in un qualche modo. Quindi dare per scontato che la vacanza debba venire esattamente come tutti gli altri anni con lo stesso tipo di gratificazione, di sospensione da una fatica che in effetti non si è fatta ecco, penso che invece al contrario un segnale debba essere fatto. Quindi mandarlo in vacanza con gli amici a Ibiza. Una formula che possa essere ridimensionata senza necessariamente essere veramente punitiva che però nel ridimensionamento del periodo, della meta, della destinazione, del divertimento ecco, qualche cosa che appunto in questa riformulazione della vacanza faccia segnalare al ragazzo che ci deve essere una discontinuità rispetto ad un evento di bocciatura avvenuto affinché appunto possa essere uno spunto di riflessione per il tempo a venire. Perfetto, quindi non deve andare in vacanza. Non deve andare in vacanza alle condizioni dell'anno precedente dove era stato promosso, insomma, quindi come premio. Va bene, grazie tante dottore. Grazie. Grazie.